Presentato presso l'Aulamagna della Sapienza, il Framework Nazionale per la Cyber Security, promosso dal CIS Sapienza e dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security Cini nell'ambito dell'Italian Cyber Security Report 2015. Il documento ha lo scopo di offrire alle organizzazioni un approccio omogeneo per affrontare la cyber security e ridurre il rischio legato alla minaccia cyber. Inoltre può rappresentare una guida per incrementare il livello di sicurezza informatica per la piccola e media impresa italiana e per il top management di grandi aziende, massicciamente presenti in sala insieme ad esponenti del mondo universitario e agli attori governativi della sicurezza informatica. In primis il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Minniti, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Per Roberto Baldoni, direttore del CIS Sapienza, il controllo del cibespazio nazionale, inteso come insieme di reti, computer, sistemi informativi, smartphone e ogni tipo di dispositivo connesso, rappresenta una pietra angolare nel prossimo futuro per garantire la prosperità economica e la sicurezza del Paese, in un cibespazio che non conosce settore pubblico o privato, militare o civile, perché siamo tutti esposti ad attacchi che minano la nostra ricchezza, la nostra privacy e l'indipendenza. E dalla presentazione del framework nazionale arriva così un messaggio forte. Credo che sia arrivato il momento di dire in modo chiaro e netto che l'agenda digitale deve essere messa al centro di questo Paese.